Consigliere Rolfi, oggi si è parlato anche del suo territorio e della reindustrializzazione della zona dell'Alfa Manervio. Sì, è un problema aperto, in confronto del quale la regione Lombardia ha fatto tanto in questi mesi, offrendo anche disponibilità finanziarie per il rilancio del sito produttivo di Africa. C'è un'altra famiglia, di fatto senza lavoro, da luglio-agosto, quando la multinazionale belga ha deciso di chiudere, si sta cercando una nuova vita industriale per un sito produttivo, per garantire continuità occupazionale in un territorio devastato dalla crisi economica e produttiva, come appunto quella della bassa bresciana. Sono sul tavolo due proposte, la prima molto interessante, sembrando non avere le gambe percorrere, ma sta arrivando una seconda. Vedremo, la regione Lombardia conferma l'impegno serio e concreto, economico e finanziario per fare in modo che il nostro territorio continui ad essere un territorio attrattivo per le imprese, anche estere. Certo, servirebbe uno stato più efficiente e magari meno usato con le tasse, ma questo è un altro discorso. Cambiando decisamente argomento, a Brescia ancora una volta ci sono state polemiche con il ministro Chienghe. Che idea si è fatta? Mi ha fatto l'idea che questo ministro ovunque va riceve contestazioni da tutti. A Brescia anche dalla sinistra estrema, che ha ritenuto fin troppo parolaia. Noi abbiamo contestato per le sue parole, per le sue intenzioni, per il fatto che da un anno che mengerò spese dagli italiani a fare comizi in ogni città d'Italia senza poi concludere niente, ma anche perché è pericolosa per le sue idee di apertura indiscriminata dalle frontiere, un periodo storico in cui rischiamo di essere, e lo siamo ogni giorno purtroppo, la meta desiderata di centinaia e migliaia di persone che non potremo né mantenere né integrare per la mancanza di lavoro e risorse già per la nostra gente che ha più diritti rispetto a quelli che arrivano oggi nel nostro paese. Per cui la Lega contesterà sempre questa teoria politica sbagliata e astrusa della ministra Chienghe e lo farà in ogni piazza Lombarda e qui andrà a pontificare.